Presidente, un successo che è insomma importante. Sì, è veramente importante per la classifica, ma soprattutto per noi, per il molale, perché è una partita che tenevamo in maniera particolare, quindi un risultato così importante è stato davvero una grande soddisfazione. La squadra ha saputo stringere i denti e colpire al momento opportuno? Sì, sì, i giocatori hanno dato veramente tanto, si poteva fare addirittura di più, ci sono state delle occasioni mancate abbastanza clamorose, però devo dire che veramente ci hanno dato grande soddisfazione, grande merito al mister, a parte tutti i giocatori e a chi ha saputo tenere la squadra così bene e così unita fino a questo punto. Adesso bisogna continuare su questa strada? Sì, sì, sì. È un bel fabbio nato? Per noi sinceramente è una posizione un po' difficile anche da mantenere, però devo dire che lo facciamo con grande piacere e con grande coraggio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.